Tutti ragazzi, io sono Angela, lui è Salvatore e oggi giochiamo a Piki! Tagli sta roba ancora! Ah già! Non va a Piki! Ehi! E quindi... Alla Lugia va! Perché tu non sei andato su Amici? Su della mappa! Ehi, noi stiamo... E noi stiamo gioca... Stiamo scegliendo la mappa! Quindi è meglio se toglie e rimetti! Qua ci manca solo e ti prendi uno spavento! Ma i suoi amici, Salvatore! Maledetto gioco di Gok! Adesso... Dobbiamo scegliere... E adesso Salvatore arriverà su Amici! Secondo me è Fetion! Ah no! No, è perché... No, perché il peggio non muore! Sono io! E vai! Sono arrivato a non uccidere! Ma... Aspetta... Però tu non devi andare! Vediamo se ci sei... Eccolo! La possiamo attivare anche Zizi? Sì... 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 Scrivo... Sono io... Piggy... Vi... Vi faccio... La... Tenerezza... Pelle! No! Tenerezza! Io ti voglio Zizi! Ma ragazzi avete notato che... Bunny... Ecco perché c'aveva la bella... Perché... C'ha questa... Questo graffio... E vai! Zizi! Dentro l'occhio! Vai signor! Vai signor! Vai signor! Vai io! Vai io! Vai io! Vai Zizi! Ha! Dov'è Zizi? Neanche lei sa dove sta! Ma Zizi! Zizi! Sto qua su... E' bloccata fra le scale! Vabbè mo scendo io a farmi killare! Ah ecco ti! Alleluia! Zizi! Grazie! Che carina! Che è Zizi! Prima ti avevo... Ha notato che Zizi il suo coso... E anche... Ciao Bunny! E non ti avvicinare perché... Trappa cose buccano! Ho notato che Zizi... I suoi cosi... E' viola! Io pensavo che era solo grigio! Ah! Io scendo le scale? Io vado da Manny Mou... Ah no perché? Uwaz! Manny Mouaz! Ma... Ti hanno fatto una A! Sì! Eeeh... Paparara! Questa è lunga storia! Sto scendendo c'è un video! E io sono nell'area... Gatti! Sto andando nell'area Gatti! Tanto io adesso me ne sono andata! Io penso che mi vieni! Mi puoi pure sparare! Tanto qua siamo giunti alla fine! Di questo gioco! Eeeh! Voglio... Voglio ammazzarti! Ma vieni qua! Sto di sopra! Io sto di... Sto di sopra! Io sto... Io sto... Io sto a cercare il muro! Ma vieni qua! Ma vieni qua! Voglio... Io sto andando sotto le scale! Ehi! Sotto le scale! Io sono... Scesa le scale! Salvato un'ulta avvicinare! Ma voglio... E tu che ti vuoi scendere? Eh... Eh... Il tizio mi fa tutto! Ti vuoi sparare? Sì, vai! Anno... Anno, fermati! Mi fanno mancare! Scema! Me ne vado! Perché sennò ti ammazzo! Tu mi hai fatto mancare il colpo! E trova! Scraziata! Mi è scraziata! Mi è scraziata! Mi è scraziata! Uuuuuh! Ha ha! Sono invincibile! Oh! Ha dovuto cercare altri colpi! Ah! Sto scendendo! E io... Il tizio è morto! Eh eh eh! Ma hai detto che mi hai fatto mancare il colpo! Ah! Ma hai detto che ti sei avvicinato? Io sto andando di sopra! Ma io sono andato di sotto! La chiave d'oro! Quella... Si prende poco! Ah! Allora si è presa la chiave d'oro! Ti faccio andare di sopra! Quindi... Un attimo! E adesso sto scendendo eh! Quindi... Ti faccio di sopra! Stai di sopra! Eh! Vai dalla... Ma se tu sei di sotto! Vai! Eh! Perché adesso sono scesa! Sai! Infatti! Io li ho trovati gli anni! Dove stanno? Espe! Fammi rivedere! Non è che mi ricordo! Espe! Qua c'è il piede di porco! Con due chiavi! Dove? Aspetta! Aspetta! Mi ricordavo o no? Ti sto cercando apposta per te eh! Salvatore! 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 No! Sei stata tu! Maledetta! Ragazzi! Basta! Io cambio il gioco! Cambio il gioco! Ragazzi! Lo sapete che lui odia quando io l'ammazzo? Proprio mi sfraciulla! Quando io... Quando io... Quando i figli mi ammazzano un po' più tempo! Io mi ero peggio! E' un po' più tempo! Salvatore! Poi ti chiamo io quando è game over eh! Capito? Guardate! Guardi! Vieni! Bene! Voi volete uscire? Ma... Non è possibile uscire! Perché io adesso mi metto davanti! Boh! Che problema! Ah ah! E adesso come fate? Adesso come fate? Vabbè! Beh guardami il quadro! Guardi! 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 Io li ho trovati! Vai dove era? Che carico! Era solo un'impressione! Questo si sta allenando! Poi lo rivedrete! Ragazzi! Ragazzi ho un annuncio molto importante! Salvatore! Lui! Giocherà con me! Ogni giorno! Farai i vedi! A me ogni giorno! Ma cosa mi metto con me? Perché lui! È bellino! Perché voglio chiamarlo Passocino! Passocino! In realtà non è bello! Oh! Ho visto uno con l'allarme! Ma guarda! Tizia! Tizia! Guarda che vi vedo! Tizia! Tizia! Vieni bottiglia di plastica! Dove sono andati a finire? Sentite poi la mia moschetta Solo due che fa il rumore Vi faccio una game over Vi faccio una game over Tizia, ma tu vuoi le botte? Ma le vuoi? Io non lo so Ma le vuoi le botte? Con la mia balestra? Eh, la balestra non ti conghi no Ma sta tizia è proprio bruttissima Oddio, superato Oddio 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 Allora, ragazzi! E mi devi guardare, però, perché tu sei già morto. Sì, tu sei già morto. Salvatore comincia a fare la mortadella. Ma, per favore! Tizio Rabotte! Angelo, perché è bella, porca? Cristiano Ronaldo! Sei banni? Tizia! Sei banni? Sì. Non lo vedi? Ma, non lo vedo. Tizio Ronaldo! Morto! Ha pezzettini! Ma lo vedi che so io? Oddio, c'è una porca! Una porca banni! Ah, ma io sono nel supermercato e tu? Guarda! Guarda! Allora, perché fa quella canzone là? Sei andato, amici! Bisogna non caricare! Wow, ho cambiato! Salvatore, ti chiamo io quando ho fatto... Ho fatto! E' finita! Chissà è la morta! E io mi metto davanti! Così vi faccio vedere! Oddio, santo Zizi! Vai! Salvatore! Ti chiamo io quando... Salvatore, game over! Puoi andare? Salvatore, puoi andare? Abbiamo finito! Uccidimi! Grazie! Vago da te! Vago da te! Vago da te! Angela! Si sapete perché? Si toglie! Perché si incavola! Si incavola ragazzi! Tra poco devo fare poche' di lezioni nuove! Angela! Ma non capisci! Mettete Carnival! Carnivale! Carnivale! Ragazzi! Carnivale! 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 Bravi si! Carnivale! 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 E vai! Carnivale! Sapete perché dice chanellina? Perché... Cosa che lui vuole? Anche un carnellino! Che si chiama Chanel! E' super fuccioso! E noi... Se andiamo di quelle coccole! Ma questo non c'entra nulla su Piggy! Ecco! Ma Salvatore! Dove cavolo è andato a finire? Vabbè! It's Gooky! It's Zu Zu! Che è? It's Gooky! It's Gooky! Eh! Non si... Non riesco a capirlo! Come si chiama! Scrivete nei commenti se avete mai giocato a Piggy! Alleluia! Ha caricato! Ho aspettato mezz'ora dopo! Ma alleluia! Ha caricato! Ah già! Ciao! Ciao! Io! Io prendo la chiave arancione! Non ci sa penso! Io a me mi pare di no! Non ci sa! Non ci sa! Comunque io non vado! Da... Dove c'è? Da lui non ci vado! Oh! È dura! Apri così posso sparare! Piggy arrivate! Salvatore! Ecco! Salvatore! Bravo! Posso prendere quella chiave? Noiii! La volevo io! Volevo io prendere una pistola! Macellare per favore! Si sta! Stiamo facendo... Ehm... Ecco! Scusate! Sto aspettando che... trovi dei colpi! Aiuto! Ce ne diche! C'è una triga che ci vuole macellare a 3x3! Lo sto aspettando! Bomb! Scaduta! E sentiamo come parla! Ciao Assuna! Oh mio Dio! C'è una triga che... Sarei un killer la triga mamma! Oh mio Dio! Ho trovato una chiave! Ti sonno eh! Ti sonno! Ti sonno! E non ti conviene perché io ho trovato questa! Ma sono la porca! Eh! La porca è super! Ma porca! Oh mio Dio! Sono Tiger! Meno male che la faccio distruggere! Trova Yami! Trova Yami! Trova Yami! Ehm... Trova Yami! Eh! Sapete cosa sono i Yami? I cosi gialli! I cosi gialli! I cosi gialli! I cosi gialli! I munizioni! 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 Sono solo! Bravo tizio! Vai! Vai! A mettere anche dall'altra! Eh! Bravo! Bravo! Posso prendere la goss? No! Deve ci sta... Deve starci lui! Non trovo Yami! Io ho trovato la orange! Guardate cosa ho trovato! Sparalo! Ma no! No! Ho sparato! Oh! Senti! Oh! Oh! Oddio! Te l'ho omogenizzato! Oh! Già! Quindi ho bisogno che ci sono i colpi! Allora a me devi sparare! Allora vuoi la guerra! Spara! Devi aspettare che arrivi! Ah! A me! Vieni! Quando io sono morto non sparava quindi ci sono ancora i colpi! Sì! Vuoi la guerra tizio! Tiger! 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 Dove sei? Perché io ho questa la gun! Ehm... È dentro il circo! Quando l'ho visto! È mera dentro il circo quando io sono morto! Ho visto rientrare dentro il circo! Tiger! Tiger vieni qua, vieni, 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 fatti sotto, ciao, ecco, te l'avevo detto che c'è, bravo che ti sei sindicata, brava Toriolino, mi vai a prendere la chiave arancione, bravo tu col martello, ce la possiamo fa, è proprio come tu, questo bambino è più forte, prendi la chiave arancione tizio, perché i 20 secondi sono passati, perché c'è Tiger, io vedo Angela che sei sindicata e io la vedo, ecco, così quando sei vicini amicini, speriamo se ci sono i anni, Angela, Angela ma porca, Angela ma adesso, c'è dietro di me, c'è Tiger, è meglio scappare, io la controllo dietro, si è messa davanti alla porta, Tiger, perfetto, ti ricordo una cosa, io mi ho avvicinato così molto, lei si è avvicinata a me e io ho corso subito verso la porta, Tiger, tizio, stai davanti alla porta, ho visto, andare davanti alla porta, è perfetto, perché io sono la gun perfetta, io vedo il tuo personaggio, Angela vai, guarda che discraziata Spolarly, scappa, prendi anche una trappola, Spolarly, corre, oddio, ta-da-da-n, oddio santo, ti abbiamo fregato brutto tizio, hai visto come sono brava, ce l'abbiamo fatto io sono pazzo hai vinto oggi sono l'ultimo personale però abbiamo vinto io cioè ho vinto io perché tu sei morto però l'hai fatto per me quindi ho vinto e l'ho sparato e meno male che era pure aperto sennò qua eravamo tutti morti scrivete brava sorellina che sei vendicata ta da angela angela no carnival carnival seppure seppure arrabbiato e quindi se n'è andato ma che che stupido angela 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 se sei tu non mi ammazzare vai e se sei tu vai sulla ruota panoramica angela 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 prendiamo le gun salvatore e cerca i ammi per sparare perché io sono stata una proista perché sia danni cane e sia cioè doggy cioè sia doggy e sia tiger sono i super veloci quindi devi stare attento ci ha trovato una chiave io ho trovato una chiave che è della giusta panoramica c'è la chiave dorata è ma io ho trovato questa dopo te la prendi tu la chiave dorata va bene Sto facendo tutto il lavoro Oh no, la espona Piggy Ed è già esponata Perfetto Tizio vai a prendere quella chiave dorata Prendi la gun L'hai presa? Come prendi, ok? Vai prendi il tuo gun Oh no Prendi i coppi Sto cercando la porca Sbaglio, la porca è entrata Non è vero, non era entrata Scappa, salvatore Vai salvatore E vai a spararlo se hai coraggio Non so, se no non vai Se no non vai Salvatore C'è poco Tizio No, se avete la porca che vi ha ammazzato Questo è un gran problema Gran cereali Aiuto Tizio scappa No, ho mancato Salvatore sei proprio Di sopra ci sono i colpi Ma ce l'ho Salvatore sta nell'altra porta Sì, ci ha preso i colpi miei Eh, ma questo è proprio attivo Io li ho trovati i colpi Io li ho trovati i colpi Ma c'è la porca, c'è la porca, c'è la porca Prima che li prende No C'è di una cosa I dizio Che dizio Eh, ma dobbiamo stare Ma no Cato, no Attenti Perché sta pistola Iscavo I dizio ha preso I colpi Atten Preso I dizio I dizio Preso I dizio ha preso i colpi Codice Oh no Serve la chiave argentata Ma vedo Non trovo i colpi Ciao Dov'è la ruota Bravo, bravo Fai il dizio C'è il martello Vai, vai Dove sono i colpi Bravo, vai qua Salvatore aperto Aperto Non ho detto Dove sono i colpi Scema Salvatore aperto Caccio di Gesù To Io te li avevo detti Ma tu non ti sei avvicinato To Scefai Ma l'ho detto Ma l'ho detto Non sono i colpi E io te l'ho detto Ma tu Ma l'ho detta Ma tu te ne sei pregato Caccio di Gesù Te ne sei pregato Vabbè ragazzi Ci fermiamo qua Ecco perché Salvatore si è arrabbiato Se l'ha presa Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi